L'avvocato Loconte, secondo lei la voluntary disclosure come cambierà l'attività e il lavoro degli studi legali? Aumenterà, diminuirà? La voluntary disclosure stravolge completamente il lavoro degli studi legali con una quantità di lavoro enorme, sia anche sotto un profilo qualitativo, perché le posizioni da regolarizzare sono tante ma sono anche molto complesse e questo vuol dire che gli studi devono impegnarsi per realizzare questa attività di regolarizzazione con una pluralità di professionisti di diversa formazione, commercialisti, avvocati, analisti finanziari, sicuramente è un'operazione molto complessa. Grazie avvocato.